Madonna, ma che cazzo è? Ma è il giorno più bello della mia vita No, 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 dai, per favore Cos'era quello? Non farlo mai più Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video Esattamente una nuova puntata di Il pista con lo youtuber Ciao Con Amedeo Conoscete? Conoscete? Ciao E' Amedeo E' lui che è alto, non sono io che sono basso Cambiamo Il problema è uno Che lui non ha mai guidato in pista Mai Esatto Mi ha tirato una patente un sacco di volte No, non è vero Il format sta che Prima guidi tu E poi ti fa porta a fare un giro io Perfetto Con Scusami Ma da Lara Ma che robetta Stato Dall'ara stradale che tu conoscerai sicuramente Assolutamente sì Una delle macchine più performanti stradali A 400 cavalli Ma a tanta Una mia in pratica A tantissima aerodinamica Sai quella aerodinamica? Sì Sì Allora, come faccio entrare? Step here Ok, c'è il tutorial Così? Bravissimo Entro Se la guida così Entra Entra Vado di bianco Mi raccomando Commentate qui sotto E fateci sapere Chi vorreste vedere Nella prossima puntata Sei pronto ad ascoltarmi? Sempre Certo Madonna, che ansia Ce l'ha il clacson? Certo Questa è una macchina stradale Allucinante Freno Freniamo col destro Ok Start Questa macchina ha due modalità Normal e Sport Ok In Normal siamo a 300 CV In Sport abbiamo a 400 CV Ok Io partirei con Sport Normal Ok Cosa devo fare? Schiaccio il freno Dov'è? Perfetto Aspetta, come lo schiaccio? Tutto? La macchina è partita Quindi siamo Allora il freno moriamo? Sì Davvero? Dopo Sì, no Adesso non succede nulla Adesso? La useremo in manuale Ok Le hai già usate Il PadoShift No 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 Io ho la macchina Con il cambio Ok Su Giù Mi raccomando Scherzo a parte La frenata è fondamentale in vista Tanta frenata all'inizio E poi rilasci gradualmente Ed entriamo in curva Ok Siamo a Varano de Melegari Autodromo Più di 2 km di pista Molto tortuoso e tecnico Non è velocissimo Però non è neanche così facile Facciamo una prova Freno acceleratore Freno Accelera 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 E tolgo il piede Accelera Accelera Ok Non si sa niente Frena Accelera Frena Cos'è o sta roba? Meglio farlo prima che dopo Ah ma quando io schiaccio si Cos'è figa? Un Transformers Cos'è sto rumore? Mettiamo la prima No aspetta Allora Qua dobbiamo andare con calma Io sti cosi non le ho mai usate Vogliamo usarne in automatico? Com'è? È più facile in automatico Non fai niente Io non voglio fare un cazzo Io voglio divertirmi Ma scendiamo Andiamo No voglio Cioè Meno roba devo fare Meglio è Automatico In automatico Accelera e freno Accelera i freni Giri il volante Destra a sinistra Ma è il giorno più bello della mia vita Ok Mani sempre alle 9.15 Ok Sempre Ok Quindi non devo fare niente Io Vale Possiamo tenerle Bene le mani Ok dimmi tu Ma c'è un altro in pista Ce ne sono altri in pista Ma come? No sei pazzo Io ho paura Anch'io Fidati Ok andiamo Piano piano Cos'è sta roba? Cos'è sto rumore? Tu non ti preoccupare Andiamo Ma non è la macchina È l'astronave di Star Trek Adesso dove vado? Dritto? No Beh sì Sinistra Se voglio diventare un po' di gas Possiamo anche farlo Ma no dimmi tu Io non ci sono autorellox C'è quanto costa sta macchina? Abbastanza Eh capito Cioè non c'ho soldi poi Sei partito subito col top Del top Del top stradale Quindi Facciamo una passeggiata Ne ho passaggiata Io controllo i specchietti Se qualcuno arriva E qua freni Stai bene su a destra Sfruttiamo tutta la pista Ok Vedi un cordolo lì? Sì Ci vai vicino Bravo Lo anticipiamo con lo sguardo Guarda già il cordolo lì Sì Ok Gira a destra E poi guarda già l'uscita Così anticipiamo tutto con lo sguardo Tu dove guardi vai Vai lì Tu devi dirmi Frena, accelera Perché io mi ammazzo Non ho paura Eh io sì Dai gas Io più di te Scazzavo C'è una macchina Cosa faccio? Quella va fortissimo Cosa faccio? Non ti preoccupare Ti passa lui Va bene Passami Passami Vai Vai Facciamo una gara Io lui Adesso Puoi schiacciare tutto Così siamo con 300 cavalli Ok Possiamo far tra qualche giro Mettiamo i 400 Oddio Oddio È un ferro di cavallo Però vabbè Parliamo Largo Stretto Largo Qua stretto E vai largo Non spostare le mani Qua vai largo Non aver paura Guarda Ok Vedi Ma non vedo Non ti preoccupare Madonna Cambia Sacrifichiamola Tu dirai cosa vuol dire Infatti Ma non ti preoccupare Tu fai scena Che C'è la macchina No Non ti preoccupare C'è la macchina Ok Ciao ragazzi Grandi Siamo colleghi ormai Basta Ho deciso che da oggi Diventerò un pilota Tu da oggi Sei pilota Tu sei un pilota Ora Leclerc Cosa? Leclerc Dimmi te qua Come andare Non so neanche chi sia Ferrari 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 Ok Solo tu E Max Verstappen Chi? Io ci provo Rilascio il treno Lentamente Cordolo Sacrifica Quindi sei un po' a sinistra Cordolo lì Subito con lo sguardo Ok Sguardo in uscita Ta il gas E allarga bene Molto bene Ma devo dire la verità Che ti stai comporando molto bene Sì Giuro Non lo dici a tutti Però Dipende quanto mi danno Ah ok Io vado solo a soldi Guarda che io mi caso Ferro di cavallo Ferro di cavallo Zoccolo di gnocchi Gnocchi Il vertebro di moffetta Ok Sempre un sguardo Attento Sei larghissimo Hai svegliato tutto Stavo guardando la Lo so Hai ragione Madonna Ma che cazzo è Così Io non ci voglio salire dopo con te su questa Te lo dico Io direi che adesso raffreddiamo un giro Cioè? Perché è molto importante raffreddare per i freni Ok Come tu ben sai Che vuol dire che andiamo piano Sì Raffreddiamo Entriamo in pit lane Perfetto Perfetto Tu non dirmi cosa significa Io vado E facciamo cambio Quindi adesso passeggiatina Piano piano Adesso Dopo che hai spinto veramente forte C'è una jackson Eh Posso suonare? Dov'è? Ma è bellissimo Questa è una macchina Che l'ingegnere Dallara Ha fatto per andare in giro Tutti i giorni Dove vado? Qua c'è una jackson Che magari non la prendiamo Anche perché non posso andare altrove Cambio Madonna Velocissima Allora te prego Io ho 25 anni Vorrei viverne almeno altri 3 4 Sai cos'è questo tastino? No Fatti i cazzi tuoi Cos'è? Il nostro Un giro turistico Cacci tua Guarda Te prego Te prego Perché? Perché? Perché ho accettato di fare questa cosa? No 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 Allora Poi vedi che è tardo Il mondo di corda Ma non parlarmi Non ti ascolto tanto Cioè Oh Scruti tutta la vista Quanto dobbiamo stare così? Piano Ma c'è un S Ma è la cosa più pericolosa Che abbia mai fatto nella mia vita E ne ho fatte di cose pericolose Oh Piano No 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 ti prego Ti prego No Ma vabbè Non ricordo Andiamo Anticipo tanto con lo fuar Piano No no dai Per favore Porca puttana Vabbè vai Più o meno come stavo andando io prima Uguale 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 Aspetta Ah Rettilineo Tu vuoi fare Quanto Facciamo un giro Un giro Un giro Un giro Un giro Un giro perché No ti Se non voglio sbloccare Occhio a questo Aaaaaah Cordolo Potrei quasi abituarmici Ti piace Facciamo Faccio un sonnellino Va bene Vai Occhio Vediamo se non possiamo sorpassarle No 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 Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno Niente No È una gara È una gara ormai Pazzo Aaaaaah 400 Piano Oh Dio Madonna Cordolo Sacrificiamo bene Sacrificiamo bene Ma io non ti ascolto È inutile che mi parli Cioè Sto pensando a tutt'altro Tranne che ascoltarti In questo momento Tu guarda Lasciamo guardare Mezzo Piano 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 giro Piano di cavallo Ancora Piano di cavallo Tanticipo con lo sguardo Parte un po' dietro Vedi che parte un po' No Madonna Ma che cazzo Cos'era quello Non farlo mai più Vedi che parte un po' No Madonna Ma che cazzo Vai Ultimo giro Ultimo giro Ultimo giro Va bene Vai Però Piano 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 Madonna Stai andando più di prima Hai detto piano 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 No Non è piano questo Vai Ok Raffreddiamo Ok Perfetto Tutto bellissimo Incredibile Quindi il prossimo step Sarà di imparare seriamente Va bene Perché io ti voglio portare in Formula 1 Io voglio Voglio una coppa Almeno una coppa voglio Da mettere Sì Lo metto Raffreddiamo che è importantissimo Se no arrivi che i freni fumano Ah così Un po' d'aria Un po' d'aria Circo la dell'aria Importantissimo Ho spento anche l'aria condizionata Per non avere cavalli meno Importantissimo Bravo Io direi che per questo video È tutto Madonna Che consiglieresti per il prossimo video Per il prossimo video Devi portare assolutamente Awed Perché Awed si caga addosso in macchina con me Quindi non immagino con te Perfetto Intanto questo video lui non lo vedrà Lui non saprà Esatto Gli faremo una sorpresa Esatto Gli faremo un'imboscata più che una sorpresa Quindi intanto lui è all'isola Adesso esce il video Che è qui all'isola Esatto Tornerà e perderà anche quei pochi chili Che ci sono rimasti Con questo giro Ci vediamo al prossimo video Vi faccio tutti i link Di Amedeo Che dovreste già conoscere Ciao Ciao amici Ciao